Su SkyMeteo24 a dicembre arriva MyWay di Autostrade per l'Italia. Con noi ogni 30 minuti tutte le informazioni utili in tempo reale. Sul traffico in autostrada e intorno alle grandi città. Telecamere live da tutta la rete, animazioni tridimensionali e tempi di percorrenza. E tutto il mondo di Autostrade per l'Italia. Sicurezza, lavori in corso, tecnologia, telepass e turismo. Con particolare attenzione agli orari di punta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.